Passiamo al prossimo speaker, chirurgo estetico, laureato in medicina e chirurgia presso l'università degli studi di Milano dove ha poi conseguito laurea specialistica e master, ha partecipato a numerosi corsi, training e congressi anche in veste di relatore, docente presso la scuola superiore post laurea di medicina e indirizzo estetico di Milano, Agorà, editore associato della rivista scientifica The European Journal of Aesthetic Medicine and Dermatology, presidente della Simoe, società italiana medici chirurghi e operatori dell'estetica, tantissimi altri titoli, direttore sanitario della divisione di medicina e chirurgia di Milano estetica, abbiamo qui Sergio Noviello che chiamerai sul palco, riflessioni per i tuoi 12 minuti. Grazie mille, buonasera a tutti quanti, grazie, penso che sia già partito, perfetto. Sicuramente quando mi hanno invitato a questa serata, insieme ai miei collaboratori abbiamo in qualche maniera cercato di individuare quale argomento poter così trattare, diciamo in un posto dove probabilmente la parola d'ordine è futuro. In realtà non vi annoierò assolutamente con la chirurgia estetica che comunque sia in televisione già sdoganata e assolutamente presente e invece cercheremo in qualche maniera di vedere quello che la letteratura scientifica internazionale ha in realtà prodotto per quello che riguarda probabilmente l'aspetto che potremmo avere da qui addirittura a 100 mila anni da oggi. In effetti, quindi abbiamo detto che probabilmente è sicuramente impossibile prevedere il futuro, però in qualche maniera possiamo metterci lì a giocare, guardando in qualche maniera appunto sulle riviste che sono apparse appunto in medicina nella letteratura scientifica internazionale ci siamo resi conto che in effetti, non va avanti quindi magari va avanti tu che così è meglio, perfetto la prossima, ok abbiamo visto in che maniera quali erano i dati che la letteratura portava, sicuramente c'è la possibilità che l'uomo possa probabilmente controllare in realtà la biologia come in realtà oggi stiamo facendo con la chimica, quindi con gli elettroni e la fisica e è possibile che in futuro noi si sia in grado di piegare o in qualche maniera di impiegare la biologia proprio per i nostri interessi. La prossima, questo è, sono due esempi di due ragazzi in realtà di oggi e la prossima, questo è in realtà quello che in effetti due studiosi che sono il professor Nicolae Lam e un disegnatore Alan Kwan hanno in qualche maniera realizzato per quello che potrebbe essere tra 20.000 anni. Possiamo tornare indietro un attimino? In effetti tra le caratteristiche che in qualche maniera possiamo notare, andiamo avanti, vi è in qualche maniera un ingrandimento di quella che è fondamentalmente la zona, l'area della testa, quindi del cervello. Vediamo la prossima, è possibile che in qualche maniera proprio la biologia, proprio l'evoluzione ci porterà ad avere un cervello probabilmente più grande, soprattutto la tendenza è quella delle aree frontali, il dottor Sorrentino prima parlava proprio di questo cervello che aveva in mano, forse la zona anteriore è quella che probabilmente sarà più sviluppata e probabilmente invece delle lenti a contatto che oggi abbiamo, c'è anzi già allo studio la possibilità di utilizzare delle lenti che in effetti potrebbero essere i Google Glass attaccati proprio a livello corneale. Vediamo la prossima. Tra 60.000 anni in realtà quello che notiamo è che probabilmente ancora di più il cervello può aumentare ma soprattutto cambia anche il discorso degli occhi che in realtà, andiamo alla prossima, proprio perché è possibile che siano cominciati i viaggi proprio nello spazio e che in qualche maniera proprio addirittura lo spazio profondo possa essere fra 60.000 anni ormai indagato, l'uomo deve in qualche maniera proprio adeguarsi a quelle che sono delle condizioni di vita nuove. Vediamo la prossima. In realtà tra 100.000 anni sicuramente sarà possibile dover affrontare delle condizioni nelle quali in qualche maniera l'uomo si debba adeguare. Vediamo la prossima e queste condizioni quali sono. La prossima ancora. Tendenzialmente abbiamo sicuramente la necessità di vedere di più perché negli spazi aerei, nello spazio tendenzialmente la luce è inferiore o maggiore se ci avvicineremo a delle stelle e di conseguenza abbiamo bisogno che in qualche maniera gli occhi abbiano una capacità di aumentare la capacità visiva o di ridurre la stessa. E poi probabilmente la pelle. Andando più vicino alle stelle dobbiamo essere sicuramente più protetti e quindi probabilmente avere una pelle un po' più scura sarà per noi fondamentale per salvaguardare la nostra incolumità. Vediamo la prossima. È probabile che gli occhi in qualche maniera e soprattutto le palpebre siano più pesanti perché in qualche maniera oggi uno dei problemi che gli astronauti hanno quando stanno magari un anno in orbita è il fatto che non riescono ad ammiccare perfettamente perché la gravità in qualche maniera ostacola questo meccanismo naturale che noi compiamo centinaia di migliaia di volte in una giornata. Ora è possibile quindi che probabilmente o lo spazio diciamo orbitario o l'arcata sopraccigliare o le palpebre siano anche in qualche maniera più pesanti e che probabilmente per combattere o in qualche maniera per ostacolare l'ingresso dei raggi cosmici forse non sbatteremo più gli occhi in questo senso ma probabilmente la biologia ci permetterà l'evoluzione di sbatterli in maniera invece a questo punto ortogonale a quello che facciamo oggi. La prossima. Saremo più belli? Ci siamo domandati in effetti se saremo più belli. In realtà se abbiamo la possibilità di controllare la biologia e quindi la simmetria del nostro viso probabilmente ci adegueremo ad avere un viso con linee molto forti, il naso molto dritto, lo sguardo intenso e quindi in qualche maniera oggi in base a quelle che sono le caratteristiche di armonia potrebbe essere una situazione che potrebbe appagarci. Vediamo la prossima. Saremo più sani anche. Abbiamo provato a capire se in realtà oltre a essere più belli in qualche maniera avremmo potuto combattere un po' le malattie. In realtà c'è la possibilità da quello che riguarda appunto che abbiamo tratto la letteratura che studiando il DNA appena nati si abbia la possibilità probabilmente di interpretare quelle che sono le nostre forze o le nostre carenze e quindi di poter governare un pochettino di più quello che sarà proprio il nostro futuro in termini proprio di salute. La prossima. Grazie per l'attenzione e queste sono insomma come dovremmo essere oggi e come potremmo essere in effetti fra centomila anni. Grazie mille. Incredibilmente veloce. Assolutamente. Ho cercato di in qualche maniera... Come un bisturi proprio. Assolutamente. Rapido indolore. Assolutamente. Spero che vi sia piaciuto, sono sicuro che vi sia piaciuto l'intervento di Sergio, aspetta ti chiedo di... potresti continuare a parlare ancora delle nostre modifiche. Assolutamente, direi che... Come di consueto facciamo la chiamata allo speaker della prossima edizione. Se tanto ci vuoi introdurre... Ok, lo speaker della prossima, o meglio che avrei il piacere di invitare nella prossima edizione di High Talk 5, a questo punto, se risponde a telefono, è Katia Follesa, che è in effetti un'attrice e tra l'altro anche comica, ormai amica da tanti anni, che casualmente abita nel mio pianerottolo e che di conseguenza quando mi hanno chiesto di invitare qualcuno ho detto senti, invito te che sicuramente facciamo bella figura. e quindi... a Milano? Sicuramente. Sì, sì, anzi. Vediamo se risponde. Vediamo se... Sembra che sia squillando. Andiamo a vedere. Siamo nel futuro, ma questo trapicolo non è che funziona perfettamente, eh? Vabbè dai, abbiamo i cinque minuti per sistemare. Sì, sì, ma... Niente, non... Facciamo... Facciamo una prova. Ti risponde subito. Dai, dai. Chiamo... Dai. Chiamiamo diretti. Facciamo il marito. Vai. Vai, chiama il marito, facciamo l'improvvisata. Angelo Pisani, marito di Katia Follesa. Sali, sali con noi. Vieni qua, abbiamo il microfono. Super sorpresa per Katia. Katia? Katia? Sì? Ciao tesoro, sono Sergio. Ciao Sergio. Tutto bene? Bene, tu? Senti, controlli per favore casa mia se c'è qualcuno, perché sono via da stamattina. Io devo andare a controllare la casa tua? Sì, se mi fai sta cortesia, siccome sono fuori casa, mi faresti un piacere. Non sai, gli ladri, questo per... Eh, ma mi tu ti aspetti in linea? No, no, vabbè, senti, non ti preoccupare. Facciamo una prossima volta. Senti, volevo chiederti cortesemente se il 5 di marzo... Eh, 5, eh? Il 5 di marzo mi dai la possibilità di invitarti a Roma a uno spettacolo, a un incontro che si chiama High Talk. Ma me lo paghi tu il biglietto per venire? Certo, te lo pago io, come al solito. Se mi fai venire a tutti, non so se io vengo. Sono già lì. Come al solito, non ti preoccupare, pago io, non ti preoccupare. Senti. Va bene, allora guarda Sergio, va benissimo, io allora vengo. Perfetto. Senti, ti mando un bacio, poi ti faccio sapere tutto, estremi e via dicendo, ok? Estremi del bonifico. Ti salutano tutti, ti salutano tutti, poi mi danno il numero bonifico e ti saluto anche Fiorello che è qui in sala con noi. Ciao Fiorellino! Un bacio. Ciao Katia, ciao tesoro. Ciao, 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 ciao. Ciao Angie. Ci abbiamo fatta, grazie Angelo. Grazie Sergio. Ok, a voi. Grazie mille. Eccoci. Grazie.